ciao buona giornata ti auguro il meglio il titolo originale quello che avevo pensato prima è per non morire bisogna svegliarsi ma poi ho riflettuto che noi moriremo ma quindi per non finire bisogna svegliarsi faccio un esempio io mi risveglio e dico ah mi sono svegliato e ho scoperto che stavo dormendo spiritualmente io spirito eterno mi risveglio mi sveglio e scopro che stavo dormendo in un corpo fisico che finirà e mi hanno fatto capire che la mia vita finisce con la morte quindi per non morire bisogna svegliarsi per non finire bisogna svegliarsi ma assisterò alla morte del corpo noi io vivo in una in italia dove il clima tra giugno luglio agosto e novembre dicembre gennaio è completamente diverso quindi in certe stagioni per non sentire freddo bisogna coprirsi in altre stagioni per non sentire caldo bisogna scoprirsi quindi se fa la foto con la manica corta è un video che non ho fatto in dicembre c'è video che ho fatto delle giornate che faceva più freddo delle giornate che faceva più caldo poi come stagioni gli abiti invernali non vanno bene testate e quelli estivi non vanno bene d'inverno allora per non morire bisogna svegliarsi e di colpa che cosa vedi che hai un corpo in un certo senso per un periodo sei un corpo ma non sei il corpo hai un corpo quindi capire la reincarnazione in questa incarnazione sono italiano nato in italia ma in questa non in tutte chiaro che se uno fa quattro reincarnazioni in italia vabbè poi in italia se il regno d'italia c'è dal 1861 mio nonno mio nonno mio nonno il padre il padre il mio padre era nato nel 1852 da scolipiceno nelle marche e la cancelliera del tribunale sono un benestante un nobile ma l'italia come regno parte nove anni dopo la sua nascita quindi lui dove è nato in una monarchia in uno stato pontificio dove è nato se uno va a fare ricerca storica quindi uno può definirsi italiano dal 1861 prima anche se era nato in quella che noi chiamiamo italia aveva un altro nome se uno nel 1850 nasceva a napoli o a palermo non è che diceva io sono italiano c'era un regno c'era un'altra denominazione quindi in ogni incarnazione può cambiare la definizione possono cambiare i nomi però no quando uno si risveglia spiritualmente scopre che stava dormendo e la coscienza è paragonabile alla bella addormentata nel bosco il bosco è la mente infatti nirvana vuol dire uscire dalla mente la mente è qua noi abbiamo sette vortici vi consiglio un libro il potere dei chakra della kundalini per capire chakra vuol dire vortice scrivete ve lo mando e che cosa succede che nella mente noi possiamo perderci come uno che si smarrisce nel bosco e si identifica oppure si addormenta la coscienza dorme nella mente poi il principe cioè lo spirito si ricongiunge alla coscienza quindi viene paragonato a una coppia lo spirito bacia la coscienza entra in intimità con la coscienza la coscienza dire spirito eterno o coscienza eterna è la stessa cosa però ci può essere anche una divisione lo spirito confuso ha la coscienza che dorme e crede di essere questo corpo anche perché nascendo la cultura i parenti la scuola la tribù l'ambiente ti fa credere sei italiano sei giorgio ti chiami cerquetti per cui io addirittura mi presento ciao mi chiamo giorgio cerquetti no 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 ho ricevuto questo nome ho ricevuto questo cognome accetto educatamente e intelligentemente ma io sono sul piano materiale italiano giorgio cerquetti sul piano spirituale sono uno spirito eterno mai nato mai morto lo dice anche krishna ad arjuna 5.000 anni fa e 3.000 anni prima di cristo quindi questa è una conoscenza che non ha inventato lui che c'era prima perché lui gli dice krishna ad arjuna si uno yogi quindi lo yogi c'era lo yoga c'era prima di 5.000 anni fa la scienza spirituale lo psichiatra svizzero carl gustav hugh chiamato successore del quello che ha creato la la logia della psiche la psicologia la scienza della mente della psiche dice se noi analizziamo un metodo spirituale un metodo spirituale per essere accettato in occidente deve essere scientifico a lui ecco lo yoga può essere accettato in occidente quindi da lui perché è scientifico scientifico e e essendo scientifico produce degli effetti in ogni tempo luogo circostanza verificabile allora il risveglio spirituale deve essere fatto intelligentemente meglio se uno aiuti assistenza perché di colpo ti accorgi che stavi dormendo come noi possiamo sognare come io posso sognare di non essere nel sogno giorgio cerquetti ma un altro corpo un'altra realtà un altro nome un'altra identità ma so che sono io così nel risveglio spirituale vedo che c'è una specie di sogno materiale che mi fa credere di essere giorgio cerquetti italiano quindi per non morire bisogna svegliarsi per non finire bisogna svegliarsi e scoprire che prima o poi questo corpo va lasciato è come se io in dicembre in una giornata in cui nevica dicessi a qualcuno prima o poi lascerai il cappotto ma come faccio a dirlo perché so che dopo l'inverno c'è la primavera l'estate io non lascerò mai il cappotto da bambino mi avevano raccontato questa storia che hanno in questa storia che vi racconto il caldo e il freddo erano due entità che parlano tra di loro e ognuno aveva un grande potere e dicono vedi quel contadino che cammina con quel mantello nero avvolto vediamo chi dei due riesce a toglierglielo il freddo fa guarda io ci metto 20 secondi a togliergli il mantello e il caldo dice va bene prima tu allora il freddo manda una colpo d'aria gelida all'improvviso ed è così forte il vento che gli sta togliendo il mantello il contadino sente così freddo che si aggrappa al mantello trema 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 e riesce a tenerselo tocca il caldo il caldo invece più lentamente dice adesso ti faccio vedere io comincia ad alzare pian piano la temperatura l'aria diventa sempre più calda per cui il contadino per forza si toglie il mantello che non resiste più mentre il freddo ha puntato a un colpo d'aria gelido che avrebbe potuto togliergli il vento il mantello quello si è aggrappato invece è caldo quindi se noi alziamo la temperatura della mente se noi alziamo il livello di coscienza di noi stessi coscienza spirito spirito coscienza impareremo che per non finire bisogna svegliarsi e magari quando ti svegli scopri in modo intelligente che stavi dormendo e nel sogno fisico pensavi di essere Giorgio Cerquetti nato in Italia ciao ti auguro il meglio guarda tutti i video e se vuoi allargare il giro consigliagli ai tuoi cari amici